Luigi Laguardia, presidente regionale Asi Basilicata e promotore dell'evento Più Sport qui a Potenza. Allora Luigi, intanto questa bella manifestazione si svolge nel centro storico di Potenza che oggi diventa, anzi ieri, è già diventato un villaggio sportivo a cielo aperto. Come si svolge questa manifestazione e quanto è importante questa appunto proprio per il territorio? Innanzitutto grazie per la partecipazione, mi ha fatto estremamente piacere avervi come ospiti, siete state carinissime, siete bravissime per quanto riguarda la parte del cheerleading. La manifestazione nasce sette anni fa, proprio come dicevi giustamente tu, un villaggio dello sport. C'è una sorta di vetrina per quanto riguarda le società sportive e le federazioni, dove mettere in mostra i propri talenti e le attività che spesso si fanno in palestra, quindi al chiuso e che nessuno vede. Questo è lo scopo. Siamo cresciuti in questi sette anni, questa è la settima edizione. Siamo stati anche capaci di farlo l'anno scorso, anche se non in un periodo diverso da giugno a settembre, in un periodo pandemico e quindi con tutte le difficoltà però c'è andata, ci siamo riusciti. E poi abbiamo, l'abbiamo riproposta quest'anno, quest'anno a giugno, partecipano circa 170 società sportive, sono 40 le federazioni sportive, noi come ente di promozione sportiva in più, sia come coorganizzatori e partecipanti come altri all'iniziativa. E niente, poi abbiamo la cornice del centro storico di Potenza che credo parli da sola e vi ha leggermente impressionato. Sicuramente. Allora Luigi ci dai qualche piccola anticipazione sul prossimo evento che si terrà a settembre? Ok, sì, siamo in fase realizzativa, abbiamo presentato un progetto alla regione Basilicata e per quanto riguarda l'anno europeo dei giovani saremo i promotori di una delle manifestazioni più importanti nella città di Potenza e nella regione della Basilicata. Logicamente sulla falsariga della manifestazione che stiamo svolgendo, quindi coinvolgendo tutte le società sportive e le federazioni, in più aggiungendo due aree tematiche che a noi toccano particolarmente che sono il bullismo, quindi il contrasto al bullismo e il contrasto all'alcolismo, quindi al consumo di alcol da parte di giovani. Allora, da Più Sport è tutto, alla prossima edizione. Grazie.